Mi chiamo Barry Allen. Sono l'uomo più veloce del mondo. Per tutti sono un perito della polizia scientifica, ma in segreto, con l'aiuto dei miei amici dei Laboratori Star, combatto il crimine e cerco altri metaumani come me. Alla fine mi sono perso nel tempo. I miei amici si sono superati per riportarmi a casa, ma mentre agivano, il nostro mondo è rimasto esposto a nuove minacce e io sono l'unico abbastanza veloce da sventarle. Io sono Flash.